La cura della persona e l'attenzione alla sua salute passa anche dalla farmacia. Lo sa bene Giuseppe Cenci, titolare della farmacia Bolli, che ha introdotto nella struttura di Via dell'Ala 15 a Ponte Felcino un servizio infermieristico ambulatoriale gratuito, attivo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il servizio si basa su medicazioni di ferite, lesioni d'alecubito o ustioni, da un ciclo di iniezioni intramuscolare o sottocutaneo e inoltre la misurazione di tutti i parametri vitali. La farmacia Bolli, un vero e proprio centro di salute aperto tutti i giorni dell'anno con orario non stop dalle 8 e 30 alle 24, effettua ulteriori servizi infermieristici a pagamento, in sede e a domicilio. Iniezioni di eparina e insulina, medicazioni semplici e complesse, flebo, aiuto all'igiene personale, assistenza al pasto, gestione della nutrizione interale e parentale, sono solo alcuni dei servizi di cui è possibile fruire grazie all'aiuto di infermieri professionali. La figura professionale dell'infermiere è una figura molto importante e un riferimento per tante persone, perché basta pensare alla necessità di poter fare una puntura con un antibiotico piuttosto che una piccola medicazione, piuttosto che avere dei consigli da utilizzare tutti i giorni nella vita quotidiana, sicuramente la figura dell'infermiere è un riferimento importante. Una particolare attenzione al cliente è alle evoluzioni del settore farmaceutico. E' questo il segreto che ha permesso alla farmacia Bolli di costruire una storia ultracentenaria che affonda le radici nel 1833 e si avvale della collaborazione di farmacisti specializzati nelle diverse aree dedicate alla dermocosmesi, agli integratori alimentari, ai prodotti per il bambino, per intolleranti al glutine e celiaci, all'omeopatia e fitoterapia. Ogni area tematica è gestita da alcuni farmacisti che sono particolarmente specializzati in quel settore e questo ci ha consentito di andare in profondità sia nella qualità del consiglio ma anche negli assortimenti, di avere un numero di referenze importante che ci consente di poter rispondere a tutte le esigenze della nostra clientela. Il futuro della farmacia sicuramente sarà quello di affiancare ai farmaci e ai prodotti e agli integratori che si sono aggiunti anche i servizi e la figura professionale dell'infermiere è una figura molto importante e un riferimento per tante persone.